Ciao ragazzi, ciao, silenzio Ma scusa, ma Filippo non c'è, Carla? Come no? Non mi ha scritto niente la mamma Eh, la mia sedia Ah, là in fondo, niente, niente, sto ai piedi Sto ai piedi, sto ai piedi, tranquillo Vieni, vieni, andiamo di là, scorta Carla, lo faccio ripassare un po' Stora che domani avete la verifica, va bene Andiamo, andiamo, sì, le pagine ce le ho Allora però ragazzi, scusate, io non sono invisibile, ok? La prof è uscita a un minuto, Maria entra subito Siediti, anch'io posso metterle note Siediti Domani dov'è che sarei io la terza? E in prima, certo, io sono i gialli, no? C'è da fare qualche supplenza, mandano a me Ascolta, Anna, noi però la verifica la continuiamo nelle ore dopo, va bene Mi dici dove sei per apporto, perché così è un po' troppo lunga per lui Oh mamma, ecco cosa devo fare, recuperare i pay No, me lo segno, se non me lo dimmi Tu ce li hai i PDP, Carla E io i pay no, dopo salgo su in segreteria a chiedere Sì, ascolta, a che esercizio siamo, caro? Al tre, grazie, al tre, vai al tre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti